Gravi e preoccupanti gli episodi di violenza che si sono verificati in questi ultimi giorni a Bolzano e dintorni. L'ultimo in ordine di tempo, quello di ieri a Laives. Quattro albanesi sono stati protagonisti di una rissa terminata a Sprangate e sono ancora avvolti nel mistero i fatti accaduti nella notte a cavallo tra domenica e lunedì, quando sotto il portico di Corso Libertà sono state rinvenute evidenti chiazze di sangue che, secondo alcune testimonianze, sarebbero il risultato di un accoltellamento. Sabato, un tunisino di 33 anni aveva violentato una prostituta ai piani di Bolzano. Infine il caso del kosovaro di 19 anni che avrebbe picchiato selvaggiamente un 31enne meranese attualmente ricoverato in condizioni serie all'ospedale di Bolzano. Il fatto risale alla notte tra venerdì e sabato scorsi ed è avvenuto in piazza dell'arena a Merano. Una sequenza impressionante di episodi innanzi alla quale prende posizione il governatore alto tesino Arno Compaccer pronto con la giunta provinciale ad elaborare un piano di prevenzione e repressione della microcriminalità con la collaborazione della Procura, della Questura e del Tribunale dei minori. Vorremmo fare un incontro con la Procura e soprattutto anche il Tribunale dei minori e ovviamente anche con la Questura per vedere se su questo lato si possono anche aggiungere alla pena che comunque sarà espressa secondo le previsioni del codice penale, ovvero del diritto che riguarda i minori, aggiungere anche delle misure particolari che possono riportare i giovani sulla strada giusta soprattutto anche prevenendo altri atti di violenza.